C'è un personaggio su Squadbusters che probabilmente non tornerà mai più e se torna, tornerà davvero, tanto tempo. Ne parliamo nel video di oggi perché in molti me l'avete chiesto, in molti chiedono questa domanda e oggi vi darò la risposta e parleremo di questo argomento. Prima di iniziare però vi chiedo sempre solo una cosa, like, iscrizione e campanellina che per voi è gratis ma per me è fondamentale per fare altri video. Ed è gratis quindi grazie per chi lo fa. Ma partiamo. Sappiamo tutti quanti che all'interno di Squadbusters sono stati aggiunti dei personaggi che sono limited edition, che sono personaggi che se escono, escono da tanto tempo, se non escono bisogna acquistarli. Però tra tutti i personaggi, a differenza di Optimus Prime che lui è già uscito da poco e poi è stato rientrodotto nello shop, acquistabile a 10 euro. Stessa cosa per l'ITA1, anche lei sarà acquistabile nel negozio per 10 euro. Cosa cambia? C'è un personaggio ragazzi che non si può acquistare. Da luglio ragazzi, da metà luglio, da fine luglio non si può più provare, non si può più trovare questo personaggio. In molti di voi hanno già capito di chi sto parlando. Della fuorilegge. Ora vi dico perché la fuorilegge, chi ce l'ha, è tipo una delle persone più fortunate, ma soprattutto che ha un bel vantaggio competitivo rispetto agli altri. E chi non ce l'ha ragazzi è veramente, veramente fregato. O meglio, non esageriamo, però è davvero in difficoltà. Io nel frattempo mi accetto tutti nella pignatta, vi ricordo che potete sempre invitarmi nella vostra pignattona e io participerò. Vediamo qua cosa ci dà questa bella pignatta oggi. Un po' di monetine, dei ticket, 20 ticket, ma i ragazzi veramente scammosa. Cassettina rara, possiamo fare dei potenziamenti? No. Nel negozio abbiamo da riscattare due goblinini, perfetto. A breve shopperemo sia questa che questa, quindi sintonizzati. E prossimamente apriremo pure questa. Ma quindi perché dico che è la fuorilegge, ragazzi? La fuorilegge è proprio difficile da ottenere, è proprio rara, è esclusiva. Beh, perché quando uscì la fuorilegge, verso metà luglio, ed è durata, e l'evento della fuorilegge è durato verso fine luglio, era un evento che compariva un po' come Tara. Avete presente Tara che compare qua nel lato estremo della mappa? C'era da questo lato, in questo stile la fuorilegge, con un evento dove bisognava raccogliere dei cestini, delle borsetteri piene di gemme. Voi direte, vabbè, è un evento normalissimo. Sì, un evento normalissimo, solo che hanno detto fin dall'inizio su Squad Busters, che sarebbe stato un personaggio che potevi o ottenere facendo quelle missioni, o acquistandolo con loro sempre tramite quell'evento. Cosa che ho fatto io, perché attenzione ragazzi, io non stavo giocando. Io in quel periodo non giocavo, non potevo giocare perché ero in viaggio e non prendevo il Wi-Fi. Quindi cosa ho fatto? Appena ho avuto la possibilità di prendere il telefono e entrare col Wi-Fi, sono entrato su Squad Busters e ho speso, mi sembra, 70.000 di gold solo per prendermi un personaggio. Voi direte, hai fatto una scelta un po' affrettata. Potevi tranquillamente rischiartela, magari lo prendevi un'altra volta. No ragazzi, perché già si sapeva che sarebbe stato un personaggio in edizione limitata. Ora vi dico quello che ha detto Supercell. La bandita è un personaggio esclusivo, che può essere ottenuto ovviamente solo col suo evento di cui vi parlavo poco fa. E attenzione, non potete ottenerla da nessun baule, nemmeno da questi bauli. Nemmeno questi bauli, se non avete la furilegge trovata nemmeno una volta, non la potrete mai sbloccare. Nemmeno dal baule stellare, che è il baule più grosso, più potente del gioco. Ma ora, immagino che praticamente tutti voi vogliate sapere quando, Kiri, quando arriva questa furilegge. Io metto il per 4 perché c'ho il mercante e forse riusciamo a fare una bella giocata piena di gemme. Allora, Paola ha fatto qualche settimana fa una diretta super interessante. Perché dico questo? Infatti fa ogni tanto delle live su Twitch, dove ci parla dei nuovi aggiornamenti, di quello che arriverà su Squad Busters, degli aggiornamenti futuri, delle skin, personaggi, tutte le varie cose. E ovviamente nella tua chat in molti hanno chiesto, scusa Paola, io non ho più la furilegge, o meglio non l'ho potuta sbloccare. Mi sapresti per cortesia dire come posso ottenerla, quando tornerà e come funziona sta benedetta furilegge? Paola ha risposto, la furilegge, come già sappiamo, è a tempo limitato. Ma attenzione, tornerà, state tranquilli perché tornerà, quindi noi sappiamo ragazzi, adesso qua Kiri vi dice che la furilegge torna, ma quando torna? Ha detto che tornerà a breve termine. Quindi non bisognerà aspettare troppo, già sono passati due mesi, praticamente due o tre mesi da quando è uscita la prima volta. Quindi già due o tre mesi sono passati. A parer mio, adesso Kiri vi dice la sua data, quello che credo. Possiamo andare innanzitutto da un range che va entro quest'anno. Quindi entro la fine di quest'anno, secondo me, l'evento della furilegge torna, ve lo dico, secondo me potrebbe tornare l'evento della furilegge. E ne sono abbastanza sicuro perché non credo facciano aspettare più di sei mesi, praticamente, per risbloccare di nuovo un personaggio. Perché questo? Sicuramente entro fine anno dovrebbe riuscire. Per dare comunque un bilanciamento, ci sta chi l'ha ottenuto dal primo evento, bravo. Chi non l'ha ottenuto dal primo evento, vabbè ragazzi, arriva solo dopo qualche mese, che ci può stare. E secondo me, raga, potremmo ottenere questo evento o proprio in questo mese di ottobre, perché vi ricordo che tra meno di 11 giorni arriva l'aggiornamento e tra pochissimi giorni dovremmo avere i primi sneak peek, le prime news, i primi video speculativi, quindi rimanete sintonizzati. Che di inizio mese abbiamo sempre meno contenuti perché bisogna un po' trovarli. Ma poi appena inizia con l'aggiornamento, vi giuro abbiamo tante, tante di quelle cose, chissà se aggiungono i clan e così via. Quindi secondo me, ad ottobre, appena arriva il nuovo aggiornamento, magari verso fine ottobre potrebbero fare un evento proprio solo per la furilegge. Se non esce ad ottobre, immagino a novembre. Dicembre mi sembra un po' eccessivo, cioè dicembre mi sembra veramente un po' eccessivo, però non si sa mai. Potrebbe essere che a dicembre decidano di fare tipo un evento regalo, evento di furilegge natalizia, non si sa mai ragazzi. Può essere che quando esce una nuova skin per la furilegge, li attaccano pure, li fanno in contemporanea pure l'evento. Può essere tutto quanto. Ora, voglio avere un piccolo sondaggio da parte vostra. In quanti di voi hanno la furilegge e come l'avete ottenuta? Perché io l'ho shoppata con tutto il gold, perché sapevo che non l'avrei finita di sbloccare tramite l'evento e quindi ragazzi ho fatto una scelta saggia. Perché ragazzi, sì, anche se uno è tutto maxato e magari in quel periodo non ha giocato, tu rimani con tutti i personaggi al massimo, ma la furilegge non la puoi ottenere in nessun modo, nemmeno shoppando. E ci sta. Secondo me è una cosa interessante, forse un po' esagerata, perché ok, sì, manca a far così. Questo qua mi sta inseguendo, lasciami stare. Ma ti prego, lasciami stare, che adesso tra un secondo arrivano gli alberi. Ok, perfetto, lasciami stare. Settimi ragazzi, settimi. Un attimino che sto... No, 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 qua la vedo male, qua la vedo davvero davvero male. Un attimino ragazzi, un attimino, che qua bisogna traiardare. Chiliamoci gli alberelli, vai Gregone. Ma che cosa vuole quest'altro? Ma ragazzi, ma ti prego, ma fatevi una vita. Oh, sono nono. Nono con 260 gemme, non ci credo. Non ci posso credere. Ma perché? Oh, ora. No, 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 no. Perché è pieno di gemme, perché... Niente ragazzi, abbiamo perso malissimo. Non so cos'è successo, io non faccio domande ragazzi, non faccio domande. Un bottino da 200 gemme, abbiamo fatto la missione, perfetto. Però decimi, no ragazzi, non si può vedere. Non so cos'è successo, sarò sincero, una cosa... Vabbò, sconvolto. Shoppiamocela un wistrick. Bello, sì, ma no ragazzi, che scam. Per quattro, l'ho spregato. Ho spregato il per quattro. Non ci posso credere ragazzi, sto tiltando. Sto tiltando, non fatemi pensare. Pensiamo che almeno la fuorilegge. Pensiamo almeno questo, che la fuorilegge ce l'ho, in molti non ce l'hanno. E poi un personaggio forte. È un personaggio forte perché ti dà 15 gemme. Trovarla all'ultra è praticamente impossibile. Però vabbè, pian piano ragazzi, pian piano, ce la si fa. Oh, che abbiamo fatto ragazzi? No, non ci credo. 10? Bene. Qua si avanza un botto nel pass, poi bisogna shopparlo ovviamente. All'inizio le gemme qua costano di meno. Farò un video a riguardo, però vi ricordo ragazzi, non utilizzate adesso l'evoluzione a tre stelle. Fermi, fermi, fermi. Non utilizzatela, che è uno scam assurdo, perché arriverà un aggiornamento. Ci sono dei vantaggi, potete utilizzarla in modo migliore, in modo più saggio, in modo più interessante. Eccoci su X di Squadbusters, vediamo se c'è qualche news riguardante la bandita, ma non credo. Beh, qua parlano tranquillamente del nuovo aggiornamento di ottobre, un po' Halloween così. Qua abbiamo visto le skin di Transformers che devo shoppare e che spaccano. Poi volevo parlarvi magari in un prossimo video della possibilità di Squadbusters, di voler creare proprio un fumetto. Un po' come il libro The Book of Clash, eccolo qua. Un fumetto di Squadbusters, che potrebbe funzionare perché ci sarebbero personaggi di Brawl, Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beach, Hidey. Sarebbe secondo me uno di quei fumetti fighi. Pensate se ci fosse in tutte le librerie, in tutta Italia, in tutto il mondo, tradotto. Sarebbe un bel boost. E io lo torno a dire che Squadbusters è il potenziale per fare tante cose di merch. Mettendo tutti i giochi insieme in una sola cosa. Sarebbe interessante. Comunque, staremo a vedere quello che ci combinano. Non credo che ci sia altro, infatti qua ragazzi non hanno pubblicato niente di nuovo al momento Squadbusters. E per chi è rimasto fino alla fine voglio darvi una piccola, un piccolo input. Visto che sappiamo che il 14 dovrebbe essere rilasciato l'aggiornamento, il 14 cioè lunedì. Io immagino ragazzi che già da questa domenica, già da quei prossimi giorni, sabato, domenica. Se no già settimana prossima, ma settimana prossima parliamo dello Squad Update. Quindi secondo me questa domenica, entro questi sette giorni dovremmo ottenere a parer mio delle prime news. Un piccolo sneak peek ricordando l'aggiornamento, uno di quei trailer shorts o uno di quei video di 20 secondi. Dove fanno modificare certe cose, dove Paola sistema lo sfondo e poi titolo con Squadbusters. E non vedo l'ora che arrivi perché manca poco. Secondo me è domenica, ora siamo giovedì 3, venerdì 4, sabato 5, domenica 6. Potremmo avere qualche news interessante perché poi manca praticamente una settimana l'aggiornamento. Sono veramente, veramente esterefatto. Ditemi la vostra nei commenti. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Spero di aver risolto tutti i vostri dubbi, le vostre perplessità riguardo alla full legend. E noi ci vediamo in un prossimo video di Squadbusters. Guardate i video che sono appena partito accanto, che sono uno più o l'altro. Ciao ciao.